Perché passeremo a Mazzeo e poi vi aspettiamo in Piazza Nuovo Aprile, dove ci sarà il saluto conclusivo. E in quel contesto aggiungeremo qualche altro elemento di riflessione. Faremo una diretta per coloro che non potranno essere presenti e tutti coloro che già hanno chiesto di incontrarmi. Quindi, datemi due o tre settimane di tempo per affrontare le tante urgenze che ci sono e come vi avevo promesso faremo. Sarà istituito il numero dedicato a tutti voi dove potrete scrivermi come sarà destinata una giornata per ricevere chiunque. Perché io ho sempre fatto così. E quindi avrete comunque la possibilità, in quei pochi minuti che riusciamo a ritagliare, ma la darò a tutti, di poter interlocuire direttamente con il vostro sindaco. Grazie, di vero cuore. Andiamo avanti perché Taormina, tutta Taormina, i Taorminesi, Trapitello, meritano quella pace in più che noi gli daremo. Grazie! Applausi! 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 Grazie! Applausi! 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 Grazie.